A fine luglio si riunirà nuovamente il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico e ogni soggetto coinvolto nell'avvertenza definirà quale sarà il proprio contributo. La data è stata decisa a Roma in occasione del tavolo organizzato per affrontare l'avvertenza Tireno Power che ha visto di fronte azienda, sindacati, Regione Liguria ed il Vice Ministro Teresa Bellanova al Ministero dello Sviluppo Economico. Per quanto riguarda la Regione Liguria, ha detto l'assessore regionale al lavoro Gianni Berrino, abbiamo ribadito la piena disponibilità a fare la nostra parte per quanto di nostra competenza a sostegno dei lavoratori, quindi interventi sulle politiche attive del lavoro e formazione. Al governo spetterà ora l'eventuale decisione sul prolungamento degli ammortizzatori sociali che vede coinvolti circa 150 lavoratori del sito di Vado Ligure, ma la priorità è che l'azienda presenti un piano industriale preciso che comprenda modalità e termini sul futuro delle aree.